Ragazzi devo ammettere che l'ultima volta a vedere Sonic.exe e essere trollato da tutti mi sono divertito abbastanza Ma cosa accadrebbe se giocassimo a Sonic.exe ma... La versione stupida! Sunkhi! Non ci posso credere! E' bellissimo! Ragazzi mi raccomando se pensate di essere più intelligenti di Sunkhi lasciate tutti quanti il like e iscrivetevi al canale Ma adesso iniziamo! Per un secondo ho visto dell'horror! Oddio! Oh! Senti che canzoni! Senti che canzoni! Non vediamo che ci sta Tails! Poi ci sta Knuckles! E ci sta Pencil to Eggman! Mi sembra proprio un uomo! Vabbè andiamo a cliccare su Tails! Vediamo che cosa succede! Ho paura! Ho veramente molta paura! Cos'era una pecora? Oh mio Dio! No no! Ah! Ci siamo! Ci siamo! Guardate ragazzi! Ok questo qui è Tails! Posso saltare? Oddio! Salto! Vabbè! È un saltellino! È un saltino abbastanza piccolino! E siamo all'interno del mondo di Sonic! Guardate! Là ci stanno 4... No! 3 cubi! Con delle ali! E ognuno ha delle facce abbastanza strane! Ma va bene! Continuiamo la nostra avventura in questo mondo fantastico! Ma dov'è Sonic? Che voglio vedere! Ma Sonic! È Sonic! Sonic! Vabbè! Chiamiamolo Sunkhi! Io so anche come cavolo si chiama! È Sunkhi! Oppure è Sunkhi.exe! Perché questo non lo so assolutamente! Io ho sempre visto Sonic.exe come... Oh! Ma che cos'è sto coso? Tails! Sai spiegarmelo? Che cos'è sto coso? Aspetta! Muovi un pochino la cotta! Saltaci sopra! Magari si sveglia! Pronto! Non si sveglia ragazzi! Non si sveglia! Questo potrebbe essere un grande problema! Un piccione! Ma aspetta! Ma in che senso il piccione è più grande di Tails? Vabbè! Non capisco! Addirittura! Qui c'è pure un pinguino! Perché un pinguino si trova qui? Non ne ho idea! Non ne ho la minima idea! I am dead! Bene! Si è fatto il cartello! Cioè non so come sia possibile! Questo qua prima di morire si è fatto un bel cartello! Sono morto! Bene! Grazie di avermi ricordato! Non l'avrei mai detto! E io per quanto tempo ancora devo continuare ad andare avanti! Io questo non lo so ragazzi! Sono veramente... Suki! Faccia il pancione! Suki! Ehi! Gli esce il dito! Ehi! Ci sei? Tutto nero! Tutto che cosa sta succedendo? Gozza go... Oddio! Gare la best! Gare la best! Che devo fare? Che devo fare? Oh! Pre... Ma che cavolo! Allora! Posso capire che siamo andati nel mondo invocato! No! Di Sonic.exe! Ma la canzone! Che cavolo! Oddio! Oddio! Aiuto! No! No! Non ero pronto tutto questo! Sonic.exe pazzo! No! Dov'è? Non mi direi che sta qua dietro di me! Oh! È lì! Oddio! Com'è brutto! Com'è brutto! Devo correre! Devo correre! Non mi avrei mai! Non mi avrei mai! Non mi avrei mai! Ah! Mi ha fatto male! Mi ha dato una testata per terra! Sta piangendo! Oddio! Ma non mi fa paura! Cioè... Non fa paura! Ok! Ma che cos'era? Ma che cos'è? Avete visto? Avete... No! Avete visto oppure non avete visto? Cioè... Stava facendo un jumpscare e poi provvisamente ha robato un balletto strano! Ok! Lui è diventato felice! Cioè non l'ha jumpscareato! Ok! Tutto normale d'altrondo! No ragazzi! Tutto normalissimo! Non c'è problema! Andiamo a vedere subito Knuckles! Dove cavolo sono finito? Dove cavolo sono finito? Stiamo distruggendo una reputazione a Sonic.exe! Uno dei mostri più spaventosi di sempre! E poi c'è questo! Ok! Almeno con lui siamo un pochino più veloci! E possiamo addirittura saltare! Guardate le nuvole dietro! Ma c'è scritto Pupi! Ma Pupi non è tipo cacca o una roba del genere! Va bene! Va bene! Nuvole di cacca! Sono anche un pochino tristi! Ci sono delle interferenze! Ma che succede? Non avete pagato la corrente? Inizio a perdere il sangue! Però ste nuvole che mi seguono mi fanno abbastanza inquietudine! Ma cos'è sta roba per te? La ketchup? Guarda! Non mi stupirò il fatto se lo fosse veramente! Sappiamo tutti che è... Ma come è un fantasma? Ha scambiato Sonic.exe per un fantasma! Ma devo andare addosso? Che devo fare? Io ho paura! Posso andarmene via? Cioè sono veramente inquietato da sta roba! Posso andarmene via? No! Devo andare addosso! Va bene! Allora arrivo! E mi ha trollato! Mi ha trollato! Mi torno addosso! E mi è andato via! Ok! Mi torno di nuovo addosso! Ok! Ma tu mi stai prendendo in giro però! Tu mi stai prendendo in giro! Suki! Ma che cavolo gli viene a questo? È impazzito ragazzi! Mi ha fatto esplodire il cervello! No! No! Mi ha fatto esplodire il cervello! Non ci posso credere! Molte... Molte canzone! Molti... Molti danze! Tantissime piccole danze! Va bene! Ok! Quella non mi sembrava tanto una danza! Ma questi due che stanno festeggiando? Un compleanno? Vabbè! Manca solo Dottor Eggman! Allora! Ho veramente paura di scoprire che cosa possa accadere effettivamente a Dottor Eggman! Vediamo... Vediamo un attimo ragazzi! Vediamo un attimo ma... Ho paura! Ho veramente molta paura! Oh! Guarda qui che passi belli imponenti! Posso saltare? No! Non posso nemmeno saltare! Va bene! Va bene! Nessun problema! Ci sono delle scale! Ok! Scendiamo queste scale! Ragazzi! È bellissimo però come cammina! Guardatelo! È bellissimo! Mettici tipo una canzone sotto! Sembra che sta facendo tipo Michael Jackson! La stupidaggine a parte! Andiamo avanti! Dov'è Sunki questa volta? Dov'è cavolo è Sunki questa volta? Perché sta diventando tutto super buio? Senti! Io ho paura del buio! Non voglio andarci per nessun motivo! Quindi adesso che dobbiamo fare? Aiuto! Sta finendo la musica! Aiuto nero! Aiuto! Aiuto! Ragazzi ho paura del buio! Aiuto! Dov'è dove andare? Non vedo niente! Vabbè io ragazzi sto continuando ad andare dritto! Ma cos'è sta roba? Sta cadendo nell'omblio! Ehi! AAAAAH! Oddio! How to dance party! Ma che cavolo? Ma si stanno mettendo negli occhiali! Da Dance Moves! Che stanno facendo? That's it! Ah e questo è! Ok! No! Una madonna schiena di palla contro Sunki! No tu stai scherzando! Oh mio Dio! Ma dove siamo veniti? E ora? Tutte interferenze! AAAAAH! Perchè non lo so! Non ho ne ho idea! Non ho ne ho idea! Your file! Your feed! Feedled! Riddle! Ma che cavolo! Ma voi siete tutti fatti di sostanze strane! Si è chiuso! Ma non è venito qua! Perchè ne abbiamo aperto un altro! E ci viene detto di fare attenzione! Perchè ci sono molti colori! Quindi se stiamo... Se abbiamo crisi epilettica non possiamo giocarci! Vabbè! Non... Enter password! Ma che password devo mettere? Sunk! Sarà quella giusta? Oh! È andato! Oddio! Ehm... Ok! Siamo Sunki! Su... Sunki! Su... Slunghi! Slunghi! Vabbè! Non lo so! Vabbè! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Qua c'è del... Del salmo parkour! Con... Delle fiamme! Che vanno schivate! Oddio ragazzi! Che pente! Oddio! Come siamo saliti lì sopra! Ok! Ok ragazzi! Sembra per il momento abbastanza normale! Io ho visto che questi cadono e non voglio cadere giù nel vuoto! Quindi facciamo subito così! Ah! Ok! Ce l'abbiamo fatta! E ora dobbiamo scendere giù! Madonna mia ragazzi! È la cosa più brutta! Che io abbia visto! Sono esploso veramente! Bomba! Questa volta non mi freghi eh! Ma è tipo Cat Mario! Ma è una roba del genere! Cioè devo stare attento a qualsiasi movimento io faccia! Aiuto! Ok! No! Ok! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Ma che cosa devo fare adesso ragazzi? Ma in cosa mi sono imbattuto? Cos'è sta roba? Ah! Quanto è brutto! Mi avete mai giocato a Suki ragazzi? Fatemelo sapere nei commenti! Oddio! Act 2! Stiamo cadendo nel vuoto! Mi sono spiaccicato! Oddio! Oh yeah! Oh 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 oh! Oddio! Ah sto coso ti schiaccia! Ma come? Ma no! Vai! Vai! Non mi avrai! Stupido coso! Uh! Ce ne sto in tempo cavolo! Ok! Questo è complicato eh! Perché sono lentissimo! Quindi è abbastanza difficile! Ok! Ok! Perfetto! Sono il maestro di Suki ragazzi! Che cos'è sta roba? Ci posso... Sono morto! E ma che devo fare con sto coso? Io ho un paura di avvicinare! Ma! Devo saltare! Aiuto! Che cosa è successo ragazzi? Non capisco! Posso passare! Ma! Che cosa sta succedendo? Non capisco! Devo capire sto coso come funziona! Devo fare tipo così! Devo saltare! E se ti puoi capire! Oh! Sono riuscito a superare sto coso strano! Oh! Madonna mia ragazzi! Sto gioco vi giuro! È la cosa più brutta che io abbia mai visto! Gli spuntoni no! Gli spuntoni no! Ok! Bisogna fare il timing perfetto! Qui! Ma tu come? Ma che cavolo è sta roba? Ignora! Mi sta distruggendo il gioco! Mi è crashato! No! Io non ho parole! Io non ho parole ragazzi! Non ho parole! Io fermo tutto! Basta! Basta! Non volevo provarlo questo Sunkie! Assolutamente! Ho fatto l'errore più grande della mia vita! Ci vediamo in un prossimo video ragazzi! Non provate Sonic.exe da stupido! Perché fidatevi! Mi aiuta cattivo! Ci vediamo in un prossimo video! E ciao ragazzi! Bye!